alì la squadra è a posto è troviamo anche qualche segretaria adesso che hanno buttato giù dalla ditta bello è ma va no entriamo dalla a stare se questo tanto lo scava via e lo so mettoni e sparoso e quello di dietro che va su guarda che cosa hanno buttato giù guardate cioè tu vedi qua e quello quel sasso lì peserà una tonnellata cioè guardate dove cazzo l'hanno buttato giù se ti pensi che questo è leggero qua hanno scaricato giù però si però devi tirare subito l'acqua tutte le ditte che c'è su guardami mi vedi? sono tutta quella schifffezza guarda quel plinto là dove l'hanno buttato figaro anche di qua che bello e adesso ci troviamo via guardate guardate andare ma direttore roba da non credere fuffa va che piota anche questo figaro fai un tetto intero e seve perché passare di là no passiamo di qua bravo adesso arriva l'ale è lui che è esperto a fare quei lavori perché se togli e ci vuole il garaverma ma se spostiamo questo ci passiamo anche da qua che è più semplice perché di lì è ostiosa no siamo arrivati dobbiamo uscire qua e usciamo qua sopra qua giriamo e basta abbiamo finito o di qua o di là Vito loro vuol passare di là Vito questi due qua e basta taglia quello lì e taglia questa seve e più avanti andiamo anche qui fino a dove arriva perché dopo ci sono le case ma sono su un pezzo bravo bravo fai un delirio fai un delirio sei fuori un disastro qua ci vuole un'altra giornata di lavoro qua ci vuole come minimo mamma mia no oggi ci fermiamo qua e passiamo indietro da qui assolutamente 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 Grazie a tutti.